Grazie per l'invito e buonasera a tutte e a tutti. Allora, vi racconto un po' di me, cercando di non emozionarmi troppo, perché è difficile raccontare la propria storia, raccontare il proprio percorso, e raccontare quelli che sono i propri sogni. Ho scelto Milano nel 2010 a causa di una passione, la moda. Io sono consulente d'immagine, anzi faccio la consulente d'immagine, la stylist, e ho avuto modo di lavorare davanti e dietro le telecamere. Arrivo a Milano proprio perché la moda era quel sogno che mi ha fatto battere il cuore. Nasco a Carpi, da genitori entrambi nigeriani, e qui, diciamo, ho deciso di partire, di partire per un lungo viaggio. A Milano ho continuato la mia formazione e ho approfondito quella che è la relazione con questa città, che mi ha dato fin da subito davvero tantissime possibilità. Quindi ho visto cambiare Milano, se pensiamo all'Expo, in tutti questi anni. E diciamo che con lei io sono cambiata. Ho svolto diversi ruoli, come vi dicevo, davanti e dietro la telecamera, e quindi la cosa difficile, essere una libera professionista nel campo della moda, essere italiana, essere nera, è stato difficile perché ero una delle poche, e le persone si rivolgevano a me parlando molto spesso in inglese. Comunque, partendo dal circa del 2015, vengo rappresentata anche da un'agenzia, un'agenzia in quanto attrice, e mi occupavo soprattutto di pubblicità. Quindi, in quella fase, io stavo riscoprendo la mia identità e ho deciso di abbracciare quella che erano le mie pluri identità, e quindi durante il periodo della transition, quindi passavo dal capello stirato al capello naturale, e in quella fase io ricordo che davvero ho deciso di fare questo tipo di sforzo e ho deciso di guardarmi allo specchio per quella che ero. Quando mi occupavo di pubblicità e di tanto altro, la concorrenza era spietata, eravamo in poche, poche donne nere che concorrevano a ruoli spesso stereotipati, a meno che non si venisse scelte per rappresentare brand internazionali. In quel caso i ruoli diventavano magicamente dei ruoli normali, quindi rappresentavi l'imprenditrice, rappresentavi la mamma, ma come la CEO di un'azienda, eccetera, eccetera. Arriviamo intorno al 2019, quindi avevo quasi completato la mia trasformazione, quindi mi vedevo finalmente col capello naturale, e durante un casting ricordo che dovevo partecipare e stare in acqua dieci ore, e in quel momento lì mi sono accorta che non ero disposta ad accettare quel tipo di ruolo, perché per la paura di rovinare il mio capello naturale. In quel caso il mio booker era un uomo bianco, e in un istante ho proprio pensato, in quel momento, come faccio io a raccontargli, a spiegargli che la mia è una scelta, una presa di posizione, cioè io non volevo quel ruolo perché per la prima volta mettevo davanti la mia identità, la mia persona, mettevo davanti i charity. Nel 2020, quindi gennaio, nasce Wariboko. Wariboko è un'agenzia di management per attori e artisti e creativi afrodiscendenti. Perché solo in questo momento afrodiscendenti? Perché è la cosa che per me è più facile, è la cosa che mi rappresenta, è la cosa che io vedo tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Wariboko è il mio primo nome, nessuno al mondo mi chiama Wariboko, e quindi decidere di dare il nome all'agenzia, questa agenzia che sta avendo un percorso per me straordinario, è stata una scelta davvero fondamentale. Quindi nel momento di scelta del naming, quindi in orari, in nottate di brainstorming, ho deciso che Wariboko era la cosa che effettivamente abbracciava la mia vita, la mia identità e tutto quanto. Quindi Wariboko significa con lei che apre una porta, e quindi era scritto proprio nel mio destino, ed è il percorso evolutivo, se lo vogliamo chiamare così. La nostra mission è molto semplice, la nostra mission è quella di rappresentare in modo capillare, ci tengo a dire questo termine, in modo capillare, quindi vuol dire in qualsiasi forma, in qualsiasi ambiente, i nostri rappresentati, che sono tendenzialmente attori, attrici, modelli, modelle, ma anche creativi, insomma persone che stanno davanti ma anche dietro alla telecamera, perché è importante cambiare questo tipo di narrativa. Ci occupiamo di cinema, moda, pubblicità, advertising, eccetera, eccetera, e speriamo di ampliarci sempre di più. Che cosa significa essere un'imprenditrice, donna nera, in Italia? Mi viene spesso chiesto quale sia stata la difficoltà maggiore nell'intraprendere questo viaggio, io lo chiamo così perché tende all'infinito, secondo me. La risposta è molto semplice. Il mio corpo è sempre stato sessualizzato, la mia professionalità è stata costantemente messa in discussione, sia quando ero una libera professionista, a maggior ragione oggi che sono un'imprenditrice. Non ho mai avuto nessun appoggio politico, nessun cognome da sventolare, e solo con l'idea di avere un progetto che profumava di trend e che per molti sarebbe caduto presso nel dimenticatovio. Quindi molte persone pensavano che Wariboko sarebbe stato solo, no? Un bellissimo trend, un bellissimo inizio, ma che poi nel giro di poco sarebbe caduto così. Invece entrare nelle stanze del potere e avere un posto a sedere al tavolo delle contrattazioni, quindi parlare con i CEO delle più grandi aziende importanti in Italia e nel mondo, è stato effettivamente possibile. Quindi nel mio caso io tutti i giorni, quotidianamente, non solo mi ritrovo ad educare nel linguaggio, quindi quando mi arrivano i casting, oggi io pretendo che non mi venga più richiesto un ragazzo o una ragazza e che venga affiancato a questa cast list il termine di colore. Cioè io pretendo che i miei clienti si approcciano a Wariboko in modo puro, in modo rispettoso. E questo è fondamentale. Quindi la lotta che io faccio tutti i giorni è costante ed è molto dura. Insomma, su questo ci tengo a dirlo. Quindi Wariboko nasce con l'obiettivo di tutelare l'immagine delle persone nere, perché avere nel backstage delle persone che hanno a che fare con delle modelle o con degli attori e che siano in grado di curare la bellezza, di curare e di saper truccare una pelle nere oppure di acconciare una capigliatura afro, io oggi trovo che sia fondamentale. Non ci sono più scuse, non è più accettabile che venga proposto un professionista che non sia in grado di riuscire ad acconciare una capigliatura afro. Quindi vedere la diversity come trend non è più accettabile, non siamo un trend. Cioè l'idea è di riuscire a rappresentare in modo capillare persone che di questo vogliono mangiare, vogliono riuscire a fare di questo il proprio lavoro in modo continuativo e quindi il fatto di riuscire, forse la cosa più difficile nel mio caso è riuscire a dire di no. Dire di no a molti lavori perché non sono in linea con quello che noi vogliamo e con quello in cui noi crediamo. Cosa ci auguriamo? Di vedere tramutata la nostra mission. Quindi nel 2030 non ci sarà più la necessità, questo è quello che noi ci auguriamo ovviamente, di rappresentare e tutelare solo persone afrodiscendenti. Ma riusciremo, e questo è imperativo, a rappresentare la diversità con tutte le proprie sfaccettature. Perché essere persone afrodiscendenti deve essere uno stigma. Cioè l'idea è proprio di non stereotipizzare questa cosa, ma riuscire a portare sugli schermi italiani dei ruoli che siano assolutamente in linea con quello che deve essere. Essere afrodiscendenti è una delle caratteristiche che ricerchiamo, ma non è l'unica. Un'altra cosa importante è che non è che perché rappresentiamo solo persone nere allora vanno bene tutte le persone nere. Ovviamente bisogna avere delle caratteristiche. E quindi non rappresentiamo tutte le persone afro. Per un'Italia diversa, la consapevolezza del proprio valore identitario passa attraverso le storie di vita personale. Quindi Wariboko ha l'obiettivo di avere identità plurime all'interno dell'agenzia e quella di lavorare per riuscire a cambiare una narrativa affinché ci siano persone che siano felici e a proprio agio nell'idea di poter lavorare con altre persone, se vogliamo dire, razzializzate o altre persone non bianche. E l'idea di Wariboko è proprio di aprire l'apertura e quindi di riuscire a incanalare questo tipo di idea per arrivare oltre al 2030, arrivare al 2040, arrivare al 2050 e avere una nuova generazione, se io penso ai bambini tra i 5-10 anni, che siano fortemente rappresentati in televisione e in tutti gli altri ambiti. Se pensiamo ad esempio all'ambito del doppiaggio, no? E pensiamo ad Eddie Murphy, a quella risata che non rappresenta effettivamente la persona afrodiscendente. Quindi attraverso tutti questi canali, tutti questi media, riuscire a portare veramente in modo capillare la presenza di afrodiscendenti oggi e di persone diverse domani. Grazie. Grazie. Grazie.